Musica Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radiobari. Piazza Cesare Battisti, la telenovela continua. Già in ritardo di oltre 150 giorni sulla consegna, rischia di slittare ulteriormente l'inaugurazione del parcheggio interrato. Scopriamo perché nel servizio di Mirko Cafaro. Dopo i danni siamo alla beffa. Proprio quando sembrava ormai imminente, in dirittura d'arrivo, il taglio del nastro sul parcheggio interrato di Piazza Cesare Battisti, ecco un nuovo possibile guaio all'orizzonte. Il riferimento è alle probabili difficoltà nell'allacciamento alla rete per il rifornimento elettrico della struttura. Difficoltà ammesse dallo stesso assessore ai lavori pubblici Marco Lacarra, che contestualmente all'avanzamento del collaudo della struttura sta provando ad aggirare il problema. Un problema legato all'appalto del servizio, che in regime vincolato è stato affidato all'Aera come SRL, società che a livello nazionale ha sostituito Enel distribuzione in tutti gli appalti. La stessa società che al momento ha impedito il tempestivo trasferimento della circoscrizione Carrassi-San Pasquale nella nuova sede di Via Tuputi, risultando insolvente. Di conseguenza, il rischio fondato è che anche l'ultima previsione di inaugurazione del parcheggio, fissata dal Comune per la prima metà di maggio, possa slittare, incrementando di fatto gli attuali 152 giorni di ritardo rispetto al termine di consegna dei lavori del 18 novembre 2010. E anche nel caso della rimozione della condotta di Via Cairoli, gli interessi di residenti e commercianti della zona sembrano destinati a soccombere. Esiste infatti una prescrizione nella valutazione di impatto ambientale che impone la rimozione della stessa prima del collaudo della struttura. Quindi, a meno che il Comune non usi motivazioni convincenti nel chiedere alla Regione il rinvio dell'apertura del nuovo cantiere, la zona dovrà sopportare l'imminente arrivo di nuove ruspe in azione. Bandi sbagliati, appalti annullati e risarcimento milionari alle imprese o aggiudicatari dei lavori. E Pantalone paga. La nota del giorno di Michele Cristallo. Gare sbagliate, lavori appaltati e poi annullati. Costano fior di milioni alle casse pubbliche, quindi ai cittadini. Accade spesso dalle nostre parti. Il caso più recente coinvolge l'Acquedotto Pugliese che, insolido con il Ministero delle Infrastrutture, dovrà risarcire per 38 milioni e 300 mila euro le quattro imprese vincitrici dell'appalto per i lavori nella Galleria Pavoncelli Bis. Lavori bloccati dal Tribunale Superiore per le Acque Pubblico. Le quattre imprese avevano chiesto un risarcimento danni per circa 75 milioni di euro. Ma il collegio arbitrale ha deciso per 38 milioni e 300 mila euro. La Regione grida allo scandalo e minaccia il ricorso alla Corte dei Conti. È difficile prevedere come andrà a finire. Di certo dovrà pagare forse non 38 milioni, ma qualcosa in meno. Purtroppo non è un caso isolato. L'Università di Bari dovrà pagare un risarcimento milionario all'impresa giudicataria dei lavori di ristrutturazione di un'ala dell'ex manifattura dei tabacchi. Ha rinunciato a quei lavori e quindi dovrà risarcire l'impresa. Il Comune di Bari ha affidato tempo fa a un'impresa del gruppo De Gennaro i lavori di esecuzione del parcheggio interrato in Corso Cavour. Il Sindaco ha dichiarato che quel parcheggio non si farà più e quindi anche in questo caso un risarcimento milionario. E poi ci sono le gare sbagliate che producono una serie di ricorsi al Tribunale regionale amministrativo con la conseguenza di alluncare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche e quindi di far lievitare i costi. E chi paga, paga pantaloni ovviamente. E raddoppia il collegamento ferroviario tra i comuni del nord barese e il capoluogo pugliese. Entro l'anno il via ai lavori. Ce ne parla Alessandra Bucci. Si accorciano le distanze tra il capoluogo pugliese e i comuni del nord barese. Il nuovo concetto di mobilità che punta all'interconnessione corre sui binari con un grande progetto che riguarda sette comuni. Gli interventi prevedono il raddoppio di 13 km del binario sulla tratta Corato-Varletta, l'interamento della ferrovia nell'abitato di Andia con la realizzazione contestuale di parcheggi di scambio per 2.000 posti auto, l'eliminazione di 13 passaggi a livello. A Bari si hanno realizzati 4 parcheggi di interscambio a Fesca San Girolamo e nella stazione di Palese in prossimità delle fermate Barimacchia ed Enziteto. Un potenziamento del trasporto metropolitano che diventerà sempre più alternativo all'uso dell'auto. Una rivoluzione per l'assessore regionale a ramo, Guglielmo Minervini. Per raddoppiare il servizio da 200 treni al giorno se ne avranno 400 treni al giorno sostanzialmente stiamo dicendo che di qui al 2015 sarà possibile immaginare un servizio di tipo metropolitano quindi con un cadenzamento ai 10 minuti ogni 10 minuti ci sarà un treno che in una manciata di minuti collegherà a queste città sarà possibile andare dal centro di Andria al centro di Bari in un tempo estremamente competitivo rispetto all'uso dell'automobile. Entro l'anno la canterizzazione dei lavori che dovranno terminare entro il 2015 per 180 milioni di euro di fondi FESR. Dovranno essere completati questi lavori entro il 2015 perché quella è la linea temporale che l'Unione Europea ha stabilito per completare le rendicontazioni quindi dobbiamo correre. E passiamo alla cronaca. La scarsa sicurezza sulle strade baresi ieri ha partorito l'ultima tragedia. I cittadini chiedono maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Vediamo il servizio di Cristina Ferrigni. Questa volta è toccato ad un cittadino tunisino di 34 anni morire travolto da più di un'auto in corsa sulla statale 16 di Bari all'altezza dello svincolo di via Napoli. Ma quello di ieri è solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti mortali che si verificano sulle strade baresi complici la scarsa illuminazione, l'assenza di pattuglie che di notte sembrano svanire nel nulla. Dall'altra parte i migrati uomini di colore che vagano sulle strade extraurbane senza meta, che attraversano all'improvviso e sbuccano dagli svincoli senza percezione del pericolo di essere investiti. Sono clandestini o solo profughi o semplicemente ospiti dei centri di accoglienza di Bari. Questo non è dato sapere la maggior parte di loro addosso non portano documenti. La vittima di ieri è stata identificata ma non era ospite del cara di Palese dove ci hanno riferito i dirigenti del centro. Tutti sono liberi di uscire dalla struttura durante il giorno ma dove a mezzanotte i cancelli si chiudono e il servizio di sorveglianza è affidato alle forze militari, Marina e agli uomini del battaglione San Marco. Beni per un valore di un milione di euro sono stati sequestrati dai carabinieri su esecuzione del decreto emesso dalla procura ad Antonio Pancotto, 49 anni, di Valenzano che si trova in carcere con l'accusa di ricettazione e riciclaggio. Sono stati sequestrati due locali adibiti a deposito, due autorimesse, tre auto di grossa cilindrata, un autocarro e un motociclo. Pancotto nell'agosto del 2009 era stato arrestato dai carabinieri in Germania su un mandato di cattura internazionale dopo tre mesi di latitanza perché ritenuto responsabile di aver ucciso a Valenzano il 24 aprile del 2009 il presunto boss Michelangelo Stramaglia. E ancora cronaca, militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato a Bari 85.000 bombonieri e oggetti da collezione con il marchio Thun e denunciato per questo 23 persone. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia che in alcuni negozi privi della prevista concessione di licenza della società detentrice del marchio erano in vendita queste ceramiche a prezzi decisamente inferiori a quelli imposti dalla ditta. Gli articoli erano contraffatti e immessi sul mercato attraverso un circuito illegale. E cambiamo argomento, la Regione Puglia punta sulla tutela delle specie agricole in estinzione con un bando per la salvaguardia delle biodiversità. Alessandra Bucci. Tutelare le specie agrarie a rischio estinzione significa preservare il patrimonio culturale legato alla storia e alle tradizioni alimentari. Con questo obiettivo nasce il bando a tutela della biodiversità, un'azione a salvaguardia inserita nel piano di sviluppo rurale e regionale che prevede anche finanziamenti a sostegno degli agricoltori che si impegnano a coltivare specie e varietà a rischio estinzione. Una forma di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio rurale pugliese ne è convinto l'assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia, Dario Stefano. Questo bando per noi rappresenta un punto d'inizio di una strategia che guarda anche all'approvazione di una legge regionale sulla biodiversità. Una strategia che inquadra la biodiversità come valore assoluto di questa nostra dimensione agricola ma anche come valore assoluto per questo nostro territorio che diventa sempre più attrattivo anche in senso turistico anche grazie a questo straordinario patrimonio in termini di biodiversità che come regione possiamo vantare. Tre giovani donne raffigurate su una bandiera tricolore e come gli allievi del corso di grafica pubblicitaria dell'Istituto Professionale Monsignor Bello di Molfetta hanno pensato di rendere omaggio ai 150 anni dell'Unità d'Italia partecipando al bando indetto dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con l'Istituto Scolastico regionale della Puglia. Sono loro i vincitori del primo premio del concorso celebrazione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia la cui premiazione è avvenuta con una cerimonia nel Palazzo della Prefettura di Bari. Con loro premiate anche le opere d'arte di altri quattro istituti baresi. E in chiusura diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Giornata serena, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord e nord-ovest con intensità di 14 km orari. Temperature comprese tra gli 8 e i 18 gradi. Vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net E per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon pomeriggio. 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 e vi auguro un buon pomeriggio.